Ciao a tutti i dreamers, sono Francesca e bentornati sul canale e benvenuti in un nuovissimo video di Adopt Me. Oggi si torna su Adopt Me per reagire ai nuovi pet o possibili nuovi pet che verranno inseriti all'interno del gioco. Sappiamo il creatore di Adopt Me con tutto il suo team ha annunciato che a novembre ci sarà un nuovo pet o nuovi pet perché sappiamo che il 26 novembre, se non sbaglio, è il giorno del ringraziamento. E sta famosissima in America, quindi può essere che verrà aggiunto un nuovo pet. Perché mi sembra che comunque l'anno scorso hanno fatto un evento del genere di Adopt Me dove si aveva appunto il tacchino. Non vorrei sbagliarmi. Se quindi siete curiosi di vedere quali saranno questi pet, se volete altri video a riguardo, mi raccomando lasciate un bel mi piace adesso, iscrivendovi anche al canale e tappando la campanellina. Vi trovate su Instagram e TikTok come Frenchy Dreams, Frenchy Dreams Official e Frenchy Dreams, vabbè, tutto sarà giù in descrizione o nel primo commento di questo video. Io sono iscritta a un canale YouTube, questa ragazza che si chiama Forever Sparks, che ogni mese o ogni totto giorni comunque pubblica dei video dove lei mostra quello che vorrebbe su Adopt Me. Ci sono dei video che io non ho ancora visto, quindi voglio vederli insieme a voi. Ma prima di andare a vedere suddetti video, dobbiamo assolutamente fare dei saluti, perché ieri ho giocato con tantissimi ragazzi, ho fatto anche una foto, sbam, foto di famiglia. Eccola qui, che è venuta malissimo, perché io continuavo a dire ragazzi state fermi, mettetevi in fila, ragazzi mettetevi... Ma non mi davano retta. Quindi passiamo ai saluti. Devo salutare Giuseppe Giubbo, sabato mattina 010, ADCFGFTY1234, Maxime Dort, vabbè, poi io comunque vi scriverò i nomi anche a schermo, Leons14567, AlessiaXXWGF, Ehi sono Ali, Fradipa28, Ambra77GMA, tipo Figu10982. Sono stati tutti dei ragazzi gentilissimi, mi hanno riempito di regali, la cosa che mi ha fatto sentire molto a disagio, però grazie mille, vi voglio tantissimo bene. E devo dirlo, non si dice quando mi fanno dei regali, va bene, però mi sono innamorata di un regalo che ho ricevuto. Non si dice, però ho avuto un regalo, ragazzi, mi sono innamorata di questo regalo. Guardatelo, usciamo fuori, ve lo faccio vedere fuori. Cioè, guardatelo, è un palloncino a forma di cuore. E non lo so, è semplicissimo, ma me ne sono innamorata. Quindi ragazzi, adesso andiamo subito a vedere quei video. Ok ragazzi, questo è il video, se io fossi assunto da Adopt Me. Allora, questa ragazza, Forever Sparks, comunque vi lascerò il link in descrizione del video, vi lascerò tutto in descrizione, realizza spesso dei video del genere, no? Dove ci mostra le sue idee per nuovi pet. A volte si sono rivelate giuste, altre volte un po' meno, ma comunque si sa che i creatori di Adopt Me comunque prendono ispirazione da quello che vuole il pubblico, da quello che i giocatori vogliono. Quindi, allora, io sono prontissima per vedere questo video. Allora, dura 42 secondi, quindi secondo me è bello cicciotto, bello pieno di informazioni compresse così. Quindi, andiamo, se io fossi assurdo da Adopt Me. Free Starter Gift Ovvero Ovvero Starter Gift Grazie per aver giocato Adopt Me. Ecco a te uno regalo speciale per iniziare. Pet Donut Ovvero un nuovo animale A forma di ciambella, che è super inquietante. Aveva uno squishy a forma di ciambella così. Ma, e sicuramente dovreste trovarlo anche sul canale, sicuramente ci ho fatto anche un video su questo squishy. Era qualcosa di un gioco. Vi lascio il link in descrizione di questo video. È identico. C'è uno squishy a forma, identico. Pet Donut Vabbè, però comunque il gioco Già il gioco quando entri come regalo Te lo dà già un Pet Donut, ti dà un egg Un starter egg Quindi Vabbè Vabbè Lei fa tutte queste animazioni Il tuo pet è nell'inventario Oh, pubblicità Aspettate Fatemi togliere la pubblicità Ok Il tuo pet è nell'inventario Oh, ma che cari Lo toglie No Vabbè Pensavo che Torna indietro Vabbè Pensavo che L'avrebbe anche tolto dall'inventario Vabbè Vedete, lei fa tutte queste cose È carinissimo comunque Se fosse aggiunto Male non farebbe Cioè potrebbero regalare qualcos'altro Oltre a una Allo starter egg Comunque vabbè Vengono regalate cose Anche con gli accessi Pensandoci Dopo 5 giorni Già si ha il primo regalo Il piccolo small grift Glift vabbè Dopo ben Due giorni Si ha Dopo ben 10 giorni Si ha il big Legendary Quello gigante Poi si ha l'uovo Quindi comunque si hanno dei regali Va pensandoci Continuiamo Wishlist Checklist Allora ok Ha aggiunto Un nuovo slot Qui Anche se forse c'è la mia facecam Su Ma ha aggiunto Un nuovo slot Con scritto wishlist E qui ci sono tutti i pet Con un check O con una cruce Ok 11 di 25 Wishlist Completed Ovvero Tu inserisci nella tua wishlist In quello che vuoi Nella tua lista desideri Dei prodotti E mano a mano che li ottieni Te li togli È carino Mi piace come cosa Sarebbe carino Se anche Aspettate Mi sono distratta Torna indietro Sarebbe carino Se anche Gli altri giocatori Potessero vederla Così quando si fanno i trade Si sa direttamente Io che cosa sto cercando E so anche tu Che cosa stai cercando E facciamo prima Sarebbe carino Ok Quindi andiamo avanti New refreshment stand Carino Aspetta Vabbè new che No aspetta Allora torna indietro Mi sto impinando Mani e piedi Ok No Boba stand Quindi Lo stand per I boba milk I bubble tea E il cookie stand No vabbè carino Sappiamo che per adesso Ci sono solo due stand No hot dog E Limonata Vuoto di memoria assurdo Soltanto Questi due stand Ci sono Però sarebbero Carinissimi Da vedere all'interno Del gioco Io li comprerei Più di quello Verino dog Ah E se poi Mettessero anche Altri Se mettessero Anche altri stand Tacos Lo stand Delle pizze E' vero Puoi comprarlo Perché c'è il negozio Quindi forse Secondo me Potrebbero metterli Vabbè New candy shop Mirscare No Vabbè ma che carini Vabbè 10 dollari Un pezzetto di cioccolato Mi pare assurdo Ma Vabbè Nuovi wallpaper Ah Nuove pitture Ok Mi piacciono Sì Queste mi piacciono Poi c'è anche Quest'altro video Da 47 secondi Quindi in quello precedente C'erano tutti gli oggetti Tutte le cose Invece In questo di 47 secondi Abbiamo Tutti i nuovi pet Tutte le idee Per i nuovi pet Sono pronta Sono carica Saranno i 47 secondi Più lunghi della nostra vita Perché continuerò a mettere pausa Ma sono pronta Allora vai Pausa Mamma mia Come ho fermato Quel pet Vabbè Pet Pink duck Quindi Anatra rosa Rosa rosetta Dall feather egg Rarità rara Ok Quindi lei immagina Anche dei futuri egg Un feather egg Sarebbe carinissimo E come base Secondo me Ha utilizzato Quella lì Già del felicottero Perché somiglia tantissimo A un felicottero Cioè guardatelo È carinissimo Ed è tutto squiscioso Mi piace un botto Questo lo prenderei No Dai Vabbè ma siamo lontanissimi Da Da San Valentino Pecorella Pet Ship Ovvero la pecora From Valentine's Event Che è San Valentino A febbraio Quindi siamo lontanissimi Adesso siamo a novembre Quindi Siamo lontanissimi Ma questo video Quando è stato pubblicato Ok È stato pubblicato Quasi un mesetto fa Ma comunque Cioè siamo Un po' Abbiamo anticipato Parecchio A San Valentino Però potrebbero Inserirlo Dopo il fossil egg Potrebbero inserire Un nuovo egg E questo qua Mi sarebbe carinissimo La voglio Una pecorella Oppure La pecorella Sarebbe potuta uscire Anche dal farm egg Pensandoci Invece non c'era Ma è troppo carino Royal tiger Ok Questo forse Mi piace di meno Royal tiger Wild egg Wild egg Potrebbe essere Un prossimo egg Rispetto al fossil egg Se ci mettete c'è stato L'ossi egg Che erano tutti i pet Australiani Poi c'è stato Il fossil egg Con tutti i pet Prestorici Un wild egg Con tutti questi egg Della giungla Però mi sembra Che già c'era Il jungle egg Safari egg Quindi forse Già ci sono stati Dei pet simili Però devo dire Questo qui Come pet Non mi piace tanto È rarità Ultra raro From halloween event Giustamente Giustamente Quando lei ha pensato Questi pet Non era stato ancora Lasciato L'evento di halloween Sarebbe stato carino Il vampire dog Sarebbe stato bellino Carino carino Però se ci pensate Secondo me Un piccolo spunto Da lei potrebbero Averlo preso Perché hanno fatto Il bat L'almino bat Bat che comunque Sono vampiretti Quindi forse ci sta Come cosa Si somigliano Poi andiamo Per me Ha vinto tutto Con questo C'è più del leggendario Il criceto Hamster Pet hamster From furry egg Potrebbe essere Anche un egg Dopo il fossil egg Rarità Non comune Ma io ne vorrei 15 di questo Io ho sempre Adorato i criceti E ho sempre Desiderato un criceto Ma non me l'hanno Mai voluto comprare Questa cosa Mi ha sempre Dissertamente disse Però per il momento Mi basano due gatti Ma il criceto È bellissimo Se mai ci sarà Un criceto Strano Comunque come pet Non c'è proprio In adoptami il criceto Quando uscirà Perché io sono sicura Che prima o poi Un criceto uscirà Lo chiameremo Amtaro Andiamo Troppo carino Il criceto è troppo carino Mi piace troppo Cioccoletto bunny Vabbè Sì Dai ci sta Dall'uovo Di Pasqua Che comunque Pasqua è aprile Quindi anche C'è parecchio 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 Tempo Rarità leggendario Cioccoletto bunny Sì Ha senso Ha senso Secondo me Secondo me Una cosa del genere A Pasqua Potrebbero anche Metterla Ma ci vorrà Parecchio Parecchio tempo Per arrivare a questo Però ci sta Qual è il tuo pet preferito Allora Io devo dirlo Io lo ammetto Non ho paura Di ammetterlo Il mio preferito È il criceto Al secondo posto Subito dopo C'è la pecorella La sheep Troppo E i vostri Fatemelo sapere Giù nei commenti Tra tutte queste cose Che vi ho mostrato Qual è stata la vostra preferita Quale non vedete L'ora Che arrivi Su adopt me Secondo io Le cose che vorrei Su adopt me Al momento Sono Un modo diverso Per organizzare L'inventario Secondo me È una cosa Che devono fare Tra avendo tanti pet Non ne ho tantissime Ok ma avendo tanti pet A volte è davvero difficile Trovare il pet Che voglio Quindi secondo me Potrebbero fare Una lista preferiti O un altro modo Per aggiungere pet Questo sì Questo sì Mi sono innamorata Di quei pet Mi sono innamorata Di quegli stand Voglio assolutamente Lo stand del bubble tea Spero Incrocio le dita Che queste cose Vengono aggiunte Nel prossimo aggiornamento Di novembre Fatemi sapere Voi cosa ne pensate Volete altri video Del genere Di aggiornamento Volete altri video In cui reagiamo Ad altri video Volete altri video Del genere Fatemelo un po' sapere Lasciate un bel mi piace Se anche voi Volete lo stand Del bubble tea La pecorella E il criceto E per iscrivervi al canale Tappate qui sul pallino Mentre per vedere altri video Presenti sul mio canale Cliccate qui sulle miniature Io vi saluto E ci vediamo domani alle 15 Con un nuovissimo video Ciao